Il paesaggio di domani dipende dalle scelte di oggi e la Toscana non ha intenzione di rimanere indietro nella tutela del proprio territorio, soprattutto quando si parla di lotta al consumo del suolo e il recupero delle aree degradate. Di questo si è parlato, con lo sguardo sempre puntato al futuro, nel corso del convegno la nuova stagione del governo del territorio in Toscana, organizzato dalla Regione Toscana nella sede della Presidenza in Palazzo Strozi Sacrati a Firenze, folta platea di amministratori e tecnici per l'intensa giornata di studi, ma soprattutto di ascolto e confronto, aperta dall'intervento del Presidente Enrico Rossi, che ha percorso quanto finora fatto dalla Toscana in materia di paesaggio. Due sessioni di lavoro con tavole rotonde e dibattiti, una dedicata alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, l'altra all'urbanistica e all'equilibrio tra territorio urbano e rurale, che sono state anche l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dei due strumenti normativi di cui la Toscana si è dotata. La legge regionale 65 del 2014 sul governo del territorio e il piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato nel 2015. Il senso di queste due leggi, la seconda concordata con il Ministero, perché il piano del paesaggio deve avere l'approvazione anche da parte del Ministero dei Beni Culturali, è tutelare la Toscana e le sue bellezze paesaggistiche, prima di tutto, le sue bellezze architettoniche e soprattutto poi evitare con la legge 65 che ci sia ulteriore consumo di territorio. Noi siamo orientati in direzione della ristrutturazione e della rigenerazione urbana e i nuovi piani regolatori o piani urbanistici dei comuni non potranno prevedere nuove espansioni edilizie. Questo è un cambiamento importantissimo, siamo l'unica regione che ha fatto un cambiamento così importante. La battaglia della Toscana al consumo di suolo è appena iniziata e ora si attende una drastica riduzione di tendenze rispetto a quanto avvenuto fino a ora con la presentazione da parte dei comuni delle varianti ai vecchi strumenti urbanistici. Ad oggi sono state redatte 84 varianti ai precedenti. piani strutturali e 617 ai regolamenti urbanistici. Ora, dal biennio 2018-2019 ci si aspetta che alle varianti si sostituiscano piani strutturali e piani operativi nati dai nuovi strumenti normativi. E i primi risultati si vedono, ha ricordato l'assessore regionale alle infrastrutture e all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli. Sono oltre 100, quasi il 40% del totale, i comuni che hanno lavorato ai piani strutturali intercomunali per trovare soluzioni condivise per tutto ciò che riguarda i loro territori, infrastrutture comprese. Ad oggi i comuni, utilizzando la possibilità che la legge ha dato attraverso le norme transitorie di avvicinarsi al regolamento e alla conformazione per gradi, da ora in poi parte invece l'esigenza di nuovi piani strutturali e di nuovi piani operativi. Tra l'altro uno degli aspetti importanti che vediamo in attuazione è quello dei piani strutturali intercomunali, cioè vale a dire gruppi di comuni che si mettono insieme in aree omogenee per poter fare il piano strutturale assieme, quindi definire assieme quelle che sono le strategie di sviluppo che riguardano le infrastrutture, che riguardano i servizi, che riguardano le scelte peculiari di un territorio. L'obiettivo a cui si punta ora è che entro il 2022 tutti i comuni toscani si dotino di un nuovo piano operativo e che per quella data siano approvati 200 tra piani strutturali e piani strutturali intercomunali, un'inversione di tendenza, anzi una rivoluzione culturale come è stata definita durante il convegno, che dovrà essere accompagnata da una collaborazione sempre più stretta con le sovrintendenze e con le amministrazioni locali in materia di paesaggio. La Toscana, con le sue norme, ha già fatto un importante passo in avanti. Non tutte le regioni hanno voluto affrontare un piano paesaggistico. I piani paesaggistici sono degli strumenti complessi perché il paesaggio è un ambito complesso e forse l'errore del legislatore in Italia negli ultimi vent'anni è stato proprio quello di non capirne la complessità. Quindi certamente nella loro applicazione ci sono delle difficoltà, ci sono delle criticità che però io credo possano essere tutte affrontate se noi abbiamo la visione, e la regione toscana l'ha avuto, che il paesaggio deve essere appunto una proiezione a medio e a lungo termine di come gestire le trasformazioni di quel contesto in cui vivono le comunità. La Convenzione europea del paesaggio ha dato un'idea molto precisa della definizione di paesaggio. Quindi alle istituzioni spetta il compito di governare una trasformazione continua, così come cambia la vita delle comunità che li abitino. La linea rossa da non oltrepassare in ogni caso è il consumo di nuovo suolo e quanto fatto fino a ora in Toscana è stato rilevato durante la giornata di studi, ha gettato i presupposti perché questa prescrizione possa essere rispettata. I risultati sono direi assolutamente incoraggianti, in questi tre anni la legge e il piano paesaggistico hanno trovato una piena applicazione, anche senza in qualche modo vincolare più di tanti comuni. Nel senso i comuni hanno avuto la possibilità di fare varianti agli strumenti urbanistici, quindi con procedure anche semplificate in un ambito però di coerenza con gli strumenti sopraordinati. Consumo di suolo vuol dire anche evitare che il cemento degli spazi urbani sconfini invadendo le campagne, un capitolo molto delicato affrontato dai relatori del convegno sul quale la Toscana ha molto da fare e da insegnare anche alla luce della propria conformazione geografica. La legge ha fatto una scelta molto netta, con i nuovi strumenti va definito qual è il perimetro dell'urbano. All'interno dell'urbano ovviamente si può e si deve poter operare in maniera più snella, più semplificata per poter anche costruire e ricostruire, quindi superare anche quel concetto che faceva della programmazione, della pianificazione della città solo pensando al suo ampliamento. Ma si può costruire sul già costruito. Fuori invece dal perimetro urbano molto spazio per quanto riguarda la valorizzazione dell'attività agricola, i bisogni dell'azienda agricola, ma non si può consumare suolo se non per destinazioni ad attività produttive, per opere pubbliche, per infrastrutture. Tra le novità della nuova stagione del Governo del territorio delineata nel convegno a Firenze c'è anche la realizzazione di un geoportale online che metta in rete tutte le informazioni e le norme raccolte dalle banche dati pubbliche sul paesaggio. Dati e cartografie saranno a disposizione dei cittadini, delle aziende e degli enti per evitare confusione e rendere inequivocabile l'applicazione delle nuove norme. Noi stiamo sviluppando una serie di progetti che non contengono solo informazioni sul paesaggio, ma si tratta di una serie di strumenti per gli operatori, per i progettizi, per i tecnici, ma evidentemente con rigatute anche per tutta la popolazione. Di cosa si tratta? Si tratta dell'opportunità attraverso un computer con internet di accedere a un sistema strutturato di informazioni, ma anche a un sistema strutturato di discipline, conoscere quali sono le regole di trasformazione del territorio, in un'ottica open data, quindi disponibilità e libertà dei dati. Secondo la filosofia della direttiva INSPIRE europea, che pensa a una confederazione di tutti gli enti, la regione ma anche i comuni, le province, le soprintendenze, tutti gli enti che intendono aderire a questa rete che appunto ha la filosofia di parlare un unico linguaggio e mettere a disposizione di tutti quelle che sono le informazioni e il patrimonio comune di conoscenze. Intanto il bilancio dei provvedimenti presi in Toscana per la tutela del paesaggio passa anche dalle risposte che arrivano dal territorio, che per ora sono positive. E quando mi è capitato di parlare con questi sindaci o con gli assessori, mi hanno detto che la nostra era una buona legge che reggeva la prova. Così come anche il piano del paesaggio in molte situazioni ha risolto problemi. Ciò che prima occorreva a due anni per ottenere un permesso anche banale, adesso ci sono tutta una serie di cose che possono essere fatte con procedure molto più accelerate. Insomma, mi sembra che abbiamo contemperato da un lato la necessità di tutelare la Toscana, questo bene straordinario, di evitare che ci siano nuove cementificazioni, almeno in eccesso, e di tutelare in questo modo anche il territorio agricolo sempre più importante e dall'altro abbiamo provato anche in qualche caso ad accelerare le procedure come è giusto che sia. In ogni caso lo sviluppo del territorio deve essere accompagnato da norme, anche a livello nazionale, che tengano conto delle peculiarità dei luoghi e della loro storia, cosa che, ha sottolineato l'assessore Ceccarelli, commentando l'emendamento toscano alla proposta di legge all'attenzione del governo in materia di consumo del suolo, vale ancora di più per la Toscana, che ha una lunga tradizione di norme in materia di difesa del paesaggio. A questo occorre guardare per il futuro. Tutto questo è importante per la Toscana perché la Toscana, sappiamo, ha nel proprio paesaggio, ha nel proprio territorio, nel rispetto di questo, ma anche nella valorizzazione di quelle che sono le sue tradizioni, le sue peculiarità di carattere anche economico e manufatturiero, una possibilità di sviluppo corretto, di sviluppo coerente, di sviluppo rispettoso appunto di un ambiente, di un paesaggio straordinario, ma anche di tradizioni che sono quelle poi che la legano al lavoro e all'occupazione. E la Toscana, ha concluso il Presidente Rossi, su questo sviluppo rispettoso dell'ambiente ha intenzione di tenere la barra dritta, senza cedere a nuovo cemento. Basta con il consumo di suolo, abbiamo bisogno di indirizzare i nostri sforzi sulla rigenerazione delle periferie, sulla ristrutturazione, sulla rigenerazione urbana. Questa è la scelta politica di fondo che noi facciamo. Come potete capire, insomma, una scelta ben distante da chi vede soltanto nel cemento e nelle nuove espansioni la possibilità di una crescita. Questa crescita l'abbiamo già avuta, forse per alcuni aspetti anche eccessiva, adesso dobbiamo concentrarsi su uno sviluppo qualitativo. Grazie a tutti.